Eccoci qua, eccoci qui, sabato notte, dinner and dance, del ristorante con vento di Lonato di Brescia, siamo in compagnia di queste belle ragazze che vengono dal lago di Iseo, a mettere d'accordo con le sei ragazze qua che come lavoro vendono gli occhiali la vista, non ce n'è una che non ci vede, queste donne devo mettere gli occhiali, te ci vedi? Lei addirittura si è lavata, si è furita gli occhiali nella mia magnetta, ringraziamo l'ottica di Bisogne per aver offerto questi occhiali di promozione a queste ragazze. Allora, io so che festeggiano due ragazze 25 anni, sul microfono e sul microfono scusate, sulla mano, ah una è lei proprio, ah lei è già quasi vera, una delle, cioè tra sei proprio lei è proprio vero, iniziamo, i nomi vicino al microfono. Chiara. No, i nomi delle festeggiano. Ah ok, ciao. Allora, voglio sapere i nomi delle festeggiano, è più duro l'ho previsto. Questo video, Chiara e? Elena. Chiara e Elena. Ok, da Bisogno. E continuate, non è che cazzo di ridi, no? Allora, Chiara ed Elena, le altre ragazze invece si chiamano? Marta. Marta. Veronica. Monica. Claudia. Monica. E Monica. Ok, ho già capito che è meglio che vi faccia cantare, se no qua non vado più a casa stasera. Bravo. Non c'è storia in questa città, quando si illumina, nessuno si diventa, è uguale, lo siedi in Africa, eh? Lascia perdere tutta questa gente, e non credere di che non gli importa niente. Sono sempre pronti a indicare solo le mie palle, come ti vesti e con chi ti incontrerai, ma non te la prenderei, loro sono fatti così. Devi solo credere che un giorno trattare di qui, scendi nella strada, valla e butta fuori quello che hai, fai partire il ritmo, quello giusto, datti una mossa e poi tieni il tempo. Con le gambe e con le mani, tieni il tempo, non fermarti fino a domani, tieni il tempo, vai avanti e vedrai, tieni il tempo, il ritmo non finisce mai. Dovete cantare, non fare l'aperitivo. Non ti lasciare andare se non ti vuole più, adesso te la tira ma non sa che tu, dai fatti per decollare quando lo verrai. Sparare una gara, se fai un giro, gli farai, scendi nella strada, valla e butta fuori quello che hai, fai partire il ritmo, quello giusto, datti una mossa e poi tieni il tempo. Con le gambe e con le mani, tieni il tempo, non fermarti fino a domani, tieni il tempo, vai avanti fino a domani, tieni il tempo, vai avanti e vedrai, tieni il tempo, il ritmo non finisce mai, tieni il tempo, tieni il tempo, tieni il tempo. Con le gambe e con le mani, tieni il tempo, non fermarti fino a domani, tieni il tempo, vai avanti e vedrai, tieni il tempo, il ritmo non finisce mai, tieni il tempo. Adesso l'ha capito come ti senti tanto, non si illumina, brava, l'ha capito alla fine. Vedi che guarda il canale, capito a domani, tieni il tempo, tieni il tempo. Vedi il tempo Fermo e qua, fermo e qua, ragazze dei bisogni, voi vi siete simpatiche? C'è un'altra canzone, sì! No, sì, dopo a casa non guardo più io, se mi sentono ancora. No, a parte le battute, io vi faccio delle domande, se rispondete in maniera corretta vi dico come vedere il video a casa, altrimenti dovete scoprirlo da sola. Ok? Risponde solo una, l'unica donna in bianco, che si chiama Monica, quindi voi potete consultarvi, però può parlare solo Monica. Prima domanda per voi, semplice, argomento matematica, via! In una stalla ci sono dieci buche, scappano tutte tranne nove, quante buche rimangono nella stalla? Sbagliato, nove! Scappano tutte tranne nove, ne rimangono nove. C'è il tranello, vedi? Uno a zero per me. Tutte tranne nove, ne rimangono nove, dieci meno uno fa nove. No, tranne nove. Vedi che c'è il tranello? Uno a zero per me. Potete pareggiare. Seconda domanda, più facile. Dovete dirmi, cosa ci fa un gallo in mezzo al mare? Galleggia, 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 galleggia. Fuori la voce? Galleggia. Ma tanto fili della tua mica? Galleggiante. Chi galleggiante? È giusto, galleggia! Uno pari, domanda decisiva. Andiamo su un argomento molto difficile. Vi do un aiutino. La prima parte della risposta è aspetta. Dovete darmi un'altra metà della risposta. Dovete dirvi, cosa ci fa un nano dal fotografo? La prima parte della risposta è aspetta. Vi ho dato un aiutone. No, non ce l'ha fatta. Non ce l'ha fatta, non ce l'ha fatta armi dietro. Aspetta qualcosa. Alla fine del video ve lo dico. Intanto facciamo un applauso forte a Chiara Elena, 25 anni da Pisogne. Chiara Elena, 25 anni. Giorgite pensa. Ready? Ciao! A presto! Ehi,но mega. Glorale di questa istora!